Eccoci qua per iniziare quest'ultima lezione che vede collaborare da una parte in Artis, partner fondamentale per tantissime decine di migliaia di produttori di vino ed enologi in tutto il mondo e dall'altra Wine Marketing Italia Wine Me Up. Io sono Roberto Cooper Bortolussi, questi sono tutti quanti i miei dettagli, con la mia azienda invece Wine Marketing Italia ci occupiamo di aiutare i produttori di vino italiani ad incrementare le vendite di vino e a trovare tanti nuovi clienti. Questo è il ciclo formativo che abbiamo pensato e abbiamo portato avanti assieme a Den Artis, sono un pochettino triste perché questa è l'ultima lezione che vado a registrare oggi, infatti parleremo di social network per il mondo del vino ed in particolare modo ci concentreremo, concentreremo la nostra attenzione su quelle che sono le piattaforme principali e più importanti da cui partire, ovvero Facebook ed Instagram, sono assolutamente da conoscere molto bene. Quindi sono un pochettino triste perché questo è l'ultimo appuntamento che è compreso all'interno di questo percorso formativo, ma cerchiamo di andare a capire bene come funzionano i social network nel mondo del vino e come puoi sfruttarli tu che sei un produttore di vino per incrementare quella che è la visibilità, quelli che sono i risultati anche economici e il rapporto con i tuoi clienti, quindi a favore della tua azienda, della tua cantina. Partiamo subito! Allora voglio partire in realtà non con delle soluzioni ma con dei problemi. È molto importante dal mio punto di vista cercare di essere onesti, cercare di capire quali sono anche poi le problematiche pratiche che si possono riscontrare sul campo. Lavorando con centinaia di produttori di vino italiani da nord a sud in tutte quante le regioni, ecco che abbiamo accumulato un pochettino di esperienze e abbiamo cercato, cioè sappiamo esattamente quali possono essere le barriere, anche le diffidenze, i dubbi, le problematiche che ci sono collegate ovviamente all'utilizzo e soprattutto all'utilizzo corretto dei social network. Vediamolo un pochettino. I problemi principali sono quattro. Primo, non ho tempo. Quanti produttori di vino, ma dall'azienda veramente più piccola, dall'azienda dove c'è solo il vignaiolo, lui da solo, fino all'azienda più strutturata, con dipendenti, collaboratori, via dicendo, tutti quanti mi dicono la stessa cosa. Non ho tempo, ok? Quindi questo è il primo problema assolutamente da affrontare. Poi, secondo problema principale, non l'ho mai fatto, quindi non ho mai utilizzato queste piattaforme. Questo è un'altra criticità che riscontriamo. La terza, non sono avvezzo a queste diavolerie, quindi non ne voglio sapere assolutamente nulla. problema. E quarto problema, alcuni pensano che non funzionino queste piattaforme, quindi che i social siano magari solamente degli strumenti, delle piattaforme per magari per i ragazzini, per passare, per trascorrere del tempo, il tempo libero, ma non per lavorare. Quindi questi sono quattro problemi che però vanno superati. Allora, il problema del tempo assolutamente bisogna essere chiari, trasparenti. Io sono per la cruda realtà e cosa vi posso dire? Nient'altro se non che i social network sono degli strumenti che devi vedere proprio come un tassello importante all'interno della tua strategia di marketing. Quindi ha tutti gli effetti e lavoro. E lavoro e quindi come tutte quante le altre attività magari che ti occupano del tempo, va ritagliato anche nel tempo per questa attività. Magari ottimizzando le altre attività, se adesso il tempo non lo trovi. Molto spesso, ok, ovviamente non sempre, ma molto spesso diciamo che questa ambizione si supera andando effettivamente a cercare i ritagli di tempo e questo nono tempo in realtà si trasforma in nono voglia. Non l'ho mai fatto invece, è una barriera, è una resistenza che c'è insomma tutte quante le novità. Però io credo che soprattutto anche questa esperienza, insomma, se possiamo chiamarla così, mi piace il termine esperienza per definire questo stato, questo periodo storico che stiamo attraversando di emergenza con il coronavirus, credo che possa influire non poco su questo secondo problema, ovvero sul non l'ho mai fatto, perché ci siamo resi tutti quanti noi conto di quanto sia indispensabile essere pronti al cambiamento. Di qualsiasi tipo, sia nella nostra vita personale, sia anche nel business, nel lavoro. Quindi credo che questo non l'ho mai fatto, lo sentiremo sempre di meno e ovviamente come tutte quante le cose, qualsiasi cosa, anche il lavoro in vigna, anche il lavoro in cantina, anche le partecipazioni alle fiere, qualsiasi altra tipologia di attività, fin quando non la facciamo, fin quando non impariamo, chiaramente non siamo capaci. Non sono avvezzo a queste diavolerie, anche qui è ovviamente collegato con il punto di prima e non funzionano, chiaramente qui non funzionano se innanzitutto non ci hai provato e secondo se non hai le giuste informazioni per poter sfruttare queste piattaforme nel modo corretto. Quindi vedremo all'interno della lezione di oggi quali sono delle indicazioni utili, ok, e anche molto pratiche da cui partire. Quindi nella lezione di oggi partiremo proprio dalla base, anche con consigli proprio per la messa a punto dei tuoi profili social, quindi proprio la parte veramente le fondamenta, la parte veramente assolutamente necessaria per cominciare, fino ti darò degli spunti anche un pochettino più specifici e soprattutto di cui sono in pochi a parlarne. Quindi l'utilizzo di piattaforme molto più avanzate collegate ovviamente ai social. Quindi se si hanno le giuste informazioni, se si hanno le giuste conoscenze, i social network possono produrre grandissimi risultati in termini economici anche per la tua azienda. Dunque le tre regole d'oro per i social network quali sono per l'utilizzo corretto? Innanzitutto avere una strategia, ok? Collegato al punto di prima non funzionano, non funzionano perché? Perché vengono sempre visti comunque qualcosa innanzitutto in secondo piano, quindi non si dà la giusta importanza ai social network, quella che si meritano, adesso vedremo anche il perché, e soprattutto non vengono inseriti in una chiara strategia. Quello che manca in realtà è il problema, non sono i social network, faccio un discorso anche un pochettino più ampio, non sono le fiere, non è l'e-commerce, non è il sito web, no? E l'insieme, cioè prima di tutto le aziende, i produttori di vino, devono avere una chiara strategia. Questi sono solo strumenti, i social network sono solo strumenti, da soli non possono far miracoli, devono essere incasellati in un progetto più grande, in un meccanismo che funziona, dove tutti quanti i tasselli hanno una propria funzione. Quindi bisogna anche porsi degli obiettivi, cioè quali obiettivi voglio raggiungere con i social network, per quale motivo li sto utilizzando. Ecco, bisogna avere chiara questa informazione strategica, altrimenti appunto li si utilizzano semplicemente come un passatempo, ma che ovviamente si differenzia e di molto rispetto ad un utilizzo professionale di queste piattaforme. Secondo punto, seconda regola d'oro, la costanza. Non ci possiamo aspettare di utilizzare, pubblicare una foto su un social network e aver risolto tutto. Non è così, non è così che funziona, bisogna avere veramente costanza, bisogna portare avanti il lavoro con i social network avanti nel tempo, bisogna avere anche pazienza. Terza regola d'oro, la frequenza. Social network, anche qui, bisogna avere costanza, ma non è che se pubblico una foto quest'anno e una al prossimo anno ho avuto la costanza di un anno, no. Bisogna avere costanza e allo stesso tempo anche la giusta frequenza. Qual è la giusta frequenza per i social network? Giornaliera. Giornaliera perché i social network hanno bisogno di materiale giornaliero, bisogna condividere, bisogna raccontare i propri follower in maniera veramente giornaliera. quello che state facendo, il vostro lavoro. I social network sono un canale che vi dà la possibilità di dialogare con i vostri clienti e i vostri potenziali clienti. La frequenza deve essere giornaliera perché un contenuto all'interno dei social network ha una scadenza molto veloce. Cioè quello che pubblicate oggi, cioè domani, dopo 48 ore, è praticamente scomparso. Ci sono talmente tanti contenuti che i contenuti che io pubblico oggi, fra due giorni finiscono in un buco nero e praticamente più nessuno li guarda, più nessuno li può leggere. A meno che non se li va a spulciare, a trovare in maniera autonoma. Però è una cosa che accade molto raramente perché ci sono talmente tanti contenuti che ognuno fa uscire contenuti con una frequenza talmente elevata che bisogna stare, insomma, alle regole di questa velocità che c'è sui social network. Bisogna prenderne atto, io non so se sia giusto o sbagliato, bisogna prenderne atto per avere successo sui social network. Strategia, costanza e frequenza sono le tre regole d'oro. Adesso però vediamo quali sono invece i vantaggi di social network. Perché, ok, ti ho detto che ti devi impegnare, che devi avere costanza, frequenza e via dicendo, ma qual è, che ritorno puoi avere? Allora, innanzitutto è la possibilità di conoscere in maniera molto specifica il tuo pubblico. Attraverso le statistiche di social network puoi vedere quali sono le persone che ti seguono molto banalmente, puoi avere informazioni su quella che è la loro demografia, quanti anni hanno, da dove provengono, quindi puoi capire, no? Puoi raccogliere delle informazioni in più che non siano solo delle sensazioni, ma sono proprio dei dati verificati sulle persone che seguono, sulle persone che seguono la tua azienda, che si interessano ai tuoi vini. E questo è un qualcosa di molto importante, perché poi tutte quante le strategie, anche quelle che riguardano la tua produzione, le tue scelte nei vigneti, le tue scelte all'interno della cantina devono tenere conto, no? Di quali sono le persone, qual è il tuo target migliore, no? Qual è il target migliore per la tua azienda. Social network ti permettono anche di trovare tanti nuovi clienti. Perché? Perché c'è veramente, ci sono tantissime persone, ci siamo quasi tutti praticamente sui social network, e quindi abbiamo la possibilità, se siamo bravi di utilizzarli, di sfruttarli, veramente di aprirci ad un mercato praticamente infinito. Ma non servono solamente per aggredire il mercato, per trovare nuovi clienti. Essere attivi sui social network nella maniera corretta ti permette anche di coltivare nel tempo il rapporto, di approfondire il rapporto con i clienti che già hai, quindi con i tuoi clienti, perché ci sono anche loro. Non deve essere solo una corsa, no? Trovare nuove persone che ti seguono, ma è un modo anche proprio per coltivare i vecchi clienti. A me piace dire sempre che il rapporto nel business, anche con i tuoi clienti, è molto simile al rapporto che c'è in un'amicizia. Se tu hai un amico, può essere anche il tuo migliore amico, e per due anni non ti fai sentire, ecco che quella persona lì probabilmente non sarà più il tuo migliore amico. Stessa cosa funziona con i clienti. Hai bisogno di dei canali per riuscire a comunicare, anche con i clienti che hai già acquisito, anche da tempo, che ti sono fedeli e tutto quanto, per continuare a nutrirli, si dice nel gergo tecnico, a nutrirli di che cosa fondamentalmente? A parlare della tua azienda, a far vedere chi ci sei, a rimanere in contatto con loro. Perché se sono i tuoi clienti fedeli da diverso tempo, significa che comunque apprezzano quello che fai, apprezzano i tuoi vini, apprezzano la tua filosofia di lavoro, e quindi hanno bisogno di essere soddisfatti, appagati da questo punto di vista. Hai la possibilità poi attraverso i social network di raccontare la tua storia in modo facile e veloce a tante persone, in simultanea. Guarda, ti faccio un esempio molto pratico. Ciascuno di noi, facciamo l'esempio di un produttore di vino, io ho un'azienda di un altro tipo, un'azienda di consulenza e formazione marketing per i produttori di vino, ma tu che sei un produttore di vino, se sei nel tuo paese, se sei in città, se sei nel mercato, ti ferma, insomma, una persona che ti chiede informazioni sulla tua azienda, può essere un conoscente, anche non per forza una persona che conosci in modo molto approfondito, e ti chiede informazioni sulla tua azienda, sui tuoi vini, iniziate a chiacchierare, no? Magari questa persona dedichi anche un quarto d'ora, venti minuti, perché no, mezz'oretta del tuo tempo, ed è una persona singola. Ti ferma per strada, ti chiede informazioni, e tu sei ben felice, no, di fermarti. Non ho veramente mai visto nessuno che nel momento in cui una persona si avvicina e chiede informazioni per la sua azienda, non gli dà retta, a meno che ovviamente non ci sono delle situazioni di emergenza. e questo lo stai facendo per una persona singola, quindi stai investendo un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora per parlare con una persona. Ecco, adesso spostiamo tutto quanto questo discorso nell'ottica dei social network, anche se parti da pochi follower, che possono essere veramente anche 100, 200, 500, 1000, quello che vuoi, senza neanche pensare, no, profili da 10.000 follower, no, facciamo anche solo 300 follower, che di norma quasi tutti hanno, no? Ecco, tu attraverso i social network hai la possibilità di dialogare investendo la stessa quantità di tempo, quindi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti al giorno, per parlare a 200, a 300 persone. E se sei bravo poi nel tempo di incrementare anche questo numero di persone, di seguaci, di follower, che seguono la tua azienda e quello che hai da raccontare, perché sei bravo anche a coinvolgere, racconti qualcosa di interessante, ecco che queste persone cresceranno sempre di più. Quindi sempre con lo stesso, con lo stesso investimento di tempo, sempre con lo stesso quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora al giorno, magari, giornaliero, potrei raggiungere, ecco che, potrei raggiungere 800, 900, 1000, 2000, 3000 persone. Quindi questo è un punto di vista, secondo me, da tenere in considerazione che risponde anche al problema che ti ho presentato in apertura di questa lezione, ovvero della famigerata frase non ho tempo. Ecco, il tempo, se vogliamo, lo possiamo trovare, lo dobbiamo semplicemente dedicare a quelle attività che possono avere un impatto, un impatto migliore sulla nostra azienda. Quindi sicuramente non ti sto dicendo di non dedicare attenzione a delle persone che ti fermano per strada, a un singolo che ti chiede informazioni sulla tua azienda. Però devi considerare che dall'altro lato hai invece uno strumento dal potenziale enorme, i social network che ti permettono di entrare in connessione con centinaia, se non migliaia di persone in maniera semplice e veloce. Questo è un punto importante. Spero, ho voluto approfondirlo un pochettino perché ci tengo particolarmente. E creando questo dialogo con le persone che ti seguono, la cosa bellissima che puoi avere è che puoi ricevere dei feedback immediati, istantanei. Cioè, puoi ad esempio creare dei sondaggi e ricevere delle risposte. Prima, nel mondo di prima, potevi certamente chiedere ai tuoi conoscenti, ai tuoi clienti più stretti dei pareri, magari non so, ipotizzo su una nuova etichetta piuttosto che su una qualsiasi altra scelta aziendale. Nel mondo di oggi grazie ai social network che cosa puoi fare? Ti seguono 500, 1000 persone. Ecco che puoi fare un sondaggio e nel giro veramente di pochissime ore, prima ancora di aver fatto un investimento per cambiare etichette, per aver preso una decisione aziendale, puoi anche, ok, chiedere ai tuoi clienti che cosa ne pensano e ricevere, fare, porre loro praticamente un questionario in maniera completamente gratuita e ricevere i loro feedback istantaneamente. Istantaneamente. quindi questo io credo che sia veramente un potenziale enorme, quindi anche perché poi è un po' l'obiettivo anche dei social network creare comunque interazione con i propri follower, quindi non bisogna mettersi sostanzialmente sulla cattedra e fare un tipo di comunicazione monodirezionale, oggi siamo nell'era dove bisogna fare una comunicazione di tipo bidirezionale, devi parlare, devi anche ascoltare i tuoi follower, loro ti risponderanno se sarai sufficientemente bravo a coinvolgerli. Altro vantaggio da non sottovalutare è che hai il totale controllo della tua comunicazione e quindi non devi assolutamente scendere a compromessi, decidi tu che cosa raccontare, come raccontarlo, con quali format. Chiaramente andrai a calibrare lo stile comunicativo, il tono di voce della tua comunicazione in base alla tipologia della tua azienda. È un brand appena nato, è una cantina appena nata, è una cantina invece storica, che tipologie di vino produci, mi viene da pensare, queste sono solo alcune delle considerazioni più importanti da fare. Certamente qualcuno può avere anche una comunicazione molto più aperta, molto più personale, altre tipologie di azienda magari manterranno un approccio un pochettino diverso. Però se posso permettermi su questo punto ecco che nei social network bisogna sempre cercare di creare empatia. Quindi personalmente a prescindere dal brand più storico o meno bisogna essere in grado di coinvolgere le persone, di coinvolgere le persone perché c'è bisogno proprio di creare empatia. E questo lo si fa solamente con una comunicazione veramente molto poi anche personale. Quindi questo ci tengo che sia chiaro. l'ultimo vantaggio è che i social network prevedono una parte sia gratuita che è quella che normalmente conosciamo tutti quanti noi ma c'è anche una parte a pagamento ovviamente specifica per le aziende. Ecco che questa parte a pagamento ci permette ti permette di investire in maniera proporzionale ai risultati. Quindi stai ottenendo dei risultati inizia ad investire più in penino stai ottenendo dei risultati ecco che puoi incrementare il tuo investimento per ottenere dei risultati sempre più grandi in proporzione. Hai iniziato a investire qualcosina non hai ottenuto i risultati che speravi ecco che allora senza troppi danni puoi cercare di capire che cosa è successo ci sono dei dati ti vengono forniti dei dati quando magari crei delle campagne ne parleremo anche più in là nel corso della lezione e sulla base di quei dati dovrai essere capace di interpretarli per capire che cosa è andato storto magari e raddrizzare il tiro per riuscire a creare delle campagne invece più efficaci che ti portano dei risultati migliori però qualcosa dove devi per forza esporti immediatamente con delle cifre esagerate ma ti permettono di testare di fare tanti test e di trovare un pochettino la tua strada quella che ti porta effettivamente ad ottenere delle soddisfazioni dal punto di vista proprio aziendale dal punto di vista economico ecco questa è la slide presa da una ricerca fatta da Otsuite in collaborazione con We Are Social è uno studio che esce praticamente annualmente questa slide si rifà allo studio all'ultimo studio presente al momento che risale a gennaio 2019 sono dati relativi ovviamente come possiamo vedere al paese Italia però sono assolutamente insomma un po' rappresentativi poi vi ho citato la fonte quindi potete anche andarvi a vedere la pubblicazione completa questo che cosa ci dice ci dice che su quasi 60 milioni di popolazione totale ecco che gli utenti di internet sono tantissimi sono praticamente tutti il tasso di penetrazione è del 92% sono 54,80 milioni gli utenti di internet e gli utenti attivi sui social media sono 35 milioni anche qui un tasso di penetrazione altissimo e questo ci fa capire che se escludiamo le persone veramente molto cioè i bambini fondamentalmente anche se i bambini magari utilizzano i social network attraverso gli account dei propri genitori però in più ci stiamo riferendo a delle cantine quindi dove il prodotto è il vino che quindi anche in Italia e in tantissimi altri paesi ovviamente non è concesso per i minorenni ed escludiamo magari le persone tanto in là con l'età anche se oggi troviamo sui social anche persone molto in là con l'età però se escludiamo un pochettino questi estremi o comunque buona parte di questi estremi ecco che ci siamo praticamente tutti se consideriamo l'Italia e la stessa fotografia no gli stessi dati si riscontrano praticamente in tantissimi altri paesi sia europei che anche in altri in altri continenti quindi cosa ci fa capire che ci siamo praticamente tutti e questo il bacino a cui si può attingere cioè possiamo raggiungere qualsiasi tipologia di di persona di cliente qualsiasi tipologia di azienda noi abbiamo perché molto spesso sento magari dire ah ma la mia azienda è particolare faccio vini particolari eccetera eccetera il mio canale è questo piuttosto che quell'altro ecco sui social fondamentalmente con la giusta strategia possiamo colpire qualsiasi tipologia di cliente come funziona i social network magari lo sapete già però ci tengo a darvi una visione anche un pochettino più tecnica sul loro funzionamento beh noi ci siamo iscritti ai principali social network mi viene in mente cioè facebook ed instagram fondamentalmente diversi anni fa facebook ancora ancora prima e abbiamo la possibilità di partecipare ai social network in maniera tendenzialmente gratuita da privati facendo che cosa però non paghiamo cioè in maniera con una moneta non paghiamo con dei soldi per avere in cambio questo beneficio di utilizzare i social network di connetterci con i nostri amici seguire le pagine che ci interessano le aziende che ci interessano in maniera del tutto gratuita ma paghiamo con i nostri dati perché quando ci scriviamo diamo il nostro nome cognome data di nascita la nostra email magari il nostro numero di telefono e ogni volta che ci colleghiamo a queste piattaforme veniamo tracciati quanto tempo ci passiamo sopra quante volte apriamo magari dallo smartphone no l'applicazione di facebook conteggia anche quello quindi siamo praticamente siamo praticamente controllati sotto ogni punto di vista probabilmente nessuno di noi ha letto no totalmente tutte quelle che sono le condizioni per iscriversi però è tutto quanto specificato quindi ogni like che mettiamo quali sono i nostri amici cioè l'algoritmo dei social network che è un pochettino il cervello quello che controlla un pochettino tutto monitora traccia ogni nostro passo ogni nostro movimento sui social network ok ogni nostro like ogni nostro commento e soprattutto non lo so una persona ovviamente che ha il like che segue ad esempio una decina di pagine di cantine quindi di produttore di vino fondamentalmente che cosa gli affibbia cioè facebook o il social network di turno sa che a quella persona tendenzialmente piace il vino quindi ha perlomeno un interesse nei confronti del vino stessa cosa ad esempio una persona che magari ha like ha tante pagine di squadre di calcio piuttosto che di calciatori veri e propri ecco che a quella persona l'algoritmo facebook capisce che a quella persona interessa il calcio nella fattispecie e quindi questo che cosa fa lo vedremo poi dopo con la pubblicità a pagamento tutte queste informazioni poi i social network le hanno impacchettate fondamentalmente e hanno creato delle piattaforme pubblicitarie per vendere questi dati alle aziende che vogliono colpire un determinato target di persone quindi vuoi colpire le persone tra i 30 e i 40 anni a cui piace il vino ecco che puoi farlo in maniera semplice e veloce adesso ho banalizzato molto il concetto ho cercato di semplificare oltre all'iscrizione ai dati chiaramente sui social network possiamo creare contenuti sia da privati che come aziende di qualsiasi tipo testuali fotografici video si possono fare delle dirette live cioè i social network sono diventate sono diventati praticamente la nuova tv ma non ci meravigliamo in questa situazione in questo periodo storico il nostro premier il nostro presidente del consiglio Conte cosa fa? fa le dirette live su facebook che poi vengono anche trasmessi in televisione magari però il canale principale da cui le lanci e con cui le lancia con cui le fa è facebook quindi questo secondo me è un tema molto importante e poi possiamo fare sondaggi e le interazioni quali sono? beh possiamo stringere amicizie con i nostri amici con altri professionisti possiamo esprimere il nostro apprezzamento attraverso i like mi piace commenti condivisioni possiamo condividere dei contenuti che ci interessano o magari con cui non siamo d'accordo andando a motivare il perché possiamo creare degli eventi ok? e tutto questo ovviamente ancora una volta è tutto quanto organizzato da questo algoritmo che è questa intelligenza artificiale che controlla fondamentalmente il funzionamento dei social network e che soprattutto è lui che decide nel momento in cui apri facebook nel momento in cui apri instagram quali amici puoi vedere quali aziende ti fa vedere quali contenuti mostrarti ti mostra quello che secondo lui può essere più interessante per te quindi ciascuno di noi ha fondamentalmente il profilo che si plasma sulle proprie preferenze in base alle azioni che tutti i giorni compiamo ok? quindi questo è il funzionamento dei social network e secondo me bisogna capire o no per riuscire poi anche a sfruttarli nella maniera corretta perché se l'algoritmo che decide noi dobbiamo cercare con un processo di reverse engineering quindi al contrario nessuno conosce queste regole al dettaglio dell'algoritmo anche perché poi sono regole che cambiano veramente di mese in mese fondamentalmente questo è il motivo per cui bisogna stare sempre al passo e rimanere sempre aggiornati sul tema dei social network quindi bisogna cercare di capire andando a ritroso come funziona questo algoritmo per hackerarlo e cercare di sfruttarlo il nostro vantaggio per le nostre aziende social network per la tua cantina che ti consiglio fondamentalmente di cui parleremo all'interno di questa lezione sono facebook ed instagram ok? sono i principali in realtà se non lo sapessi ancora la proprietà è sempre di facebook perché anche instagram ormai già da qualche anno è stato acquistato da facebook quindi la proprietà è la stessa è semplicemente un brand un brand differente facebook con tre punti per cosa è importante è importante innanzitutto per coltivare il tuo pubblico ti permette di creare contenuti di vario tipo ti permette di creare anche delle vere proprie community attraverso la funzione dei gruppi facebook poi è perfetto anche per gli eventi quindi si organizzi appena sarà di nuovo possibile magari delle degustazioni degli eventi in cantina puoi sfruttare la funzione degli eventi che in questo momento storico sta funzionando molto bene e poi ovviamente da facebook è dove si gestisce tutta quanta quella che è la pubblicità a pagamento tutto ciò che riguarda la piattaforma pubblicitaria e sempre da facebook si gestisce la pubblicità sia per facebook ma anche per instagram adesso vedremo più nel dettaglio ecco una checklist proprio le fondamenta da cui partire per facebook per capire se sei sulla strada giusta se hai insomma i requisiti minimi allora innanzitutto sembra scontato dire però bisogna avere una pagina aziendale ok se devi utilizzare facebook per business devi creare la pagina aziendale della tua cantina non puoi utilizzare il tuo profilo personale primo perché stai violando le policy le politiche di facebook e secondo perché non hai la possibilità di accedere a tantissime strumentazioni a tantissime potenzialità dei social network il profilo privato non ti dà la possibilità di vedere le statistiche di fare pubblicità a pagamento e via dicendo fotoprofilo scegli con cura la tua fotoprofilo a volte qualcuno utilizza solamente il logo altre volte però potrebbe essere anche magari più interessante non utilizzare per forza il logo ma un'immagine più accattivante quello che ti consiglio in ogni caso scegliere la tua fotoprofilo in maniera molto molto accurata e di non cambiarla praticamente mai perché? perché la fotoprofilo è quella che appare ogni volta che pubblichi qualcosa o nel tondino o comunque nella sua anteprima di vario genere e le persone prima ancora di leggere la parte testuale il nostro cervello cattura le immagini quindi già subito dalla nostra fotoprofilo le persone collegano che siamo noi che sei tu che stai parlando quindi cambiare molto spesso la fotoprofilo manda in confusione le persone che ti seguono quindi anche potenzialmente i tuoi clienti immagini della copertina invece su facebook la puoi sfruttare molto bene la puoi cambiare di volta in volta può avere vari utilizzi varie strategie se hai un calendario di eventi a cui parteciperai puoi inserire quelli se hai insomma qualsiasi altro tipo di comunicazione da fare puoi fare quello se vuoi inserire magari un video adesso c'è anche questa possibilità o se vuoi semplicemente inserire un'immagine una bella immagine una bella fotografia che ritragga qualcosa di particolare e che riguarda la tua azienda o i tuoi vini link al sito web ok cercate di integrare tra di loro i vari strumenti che sono all'interno della vostra strategia stiamo parlando di social network ma come ho detto prima strategia prima di tutto social network è un tassello all'interno di un disegno più grande dunque dai social network le persone devono poter anche magari se vogliono approfondire sul tuo sito web e viceversa quindi i tuoi social network devono avere un collegamento al sito web e il tuo sito web deve avere un collegamento ai tuoi profili social poni attenzione e cura alla descrizione e alle informazioni che ti richiedono sulla pagina facebook devono essere corrette e dettagliate molto spesso mi imbatto magari in pagine aziendali di produttori di vino che insomma hanno sì magari il numero di telefono però magari poi non hanno proprio la descrizione nel senso quella breve biografia quelle poche righe che possono introdurre le persone alla tua azienda cioè chi sei che cosa fai e perché sei diverso rispetto agli altri perché dovrebbero interessarsi a te le persone ecco quello è un punto molto importante perché una persona che magari non ti conosce atterra per la prima volta sulla tua pagina facebook ecco che gli devi dare fondamentalmente il benvenuto gli devi spiegare in poco tempo chi sei che cosa fai e come mai si dovrebbe dovrebbe contattarti dovrebbe seguirti dovrebbe interessarsi a quello che racconti e a quello che pubblichi recensioni attive dato che molto spesso non è attiva di default la possibilità di ricevere recensioni sulla pagina facebook e dal momento che le recensioni sono importantissime è importantissimo raccogliere le recensioni quello che ti consiglio è di andare subito a controllare se sulla tua pagina facebook c'è la possibilità le persone hanno la possibilità di lasciarti le recensioni se così non fosse vai nelle impostazioni della tua pagina aziendale e attiva subito questa funzione non ci vuole molto e subito dopo sempre dalle impostazioni controlla che la tua pagina facebook sia collegata con il tuo profilo instagram devono poter comunicare tra di loro dopo vedremo anche il perché ok questa è la checklist per facebook proprio sono i requisiti minimi poi chiaramente oltre a portare avanti una strategia di contenuti con frequenza giornaliera gratuitamente sui social network quindi devi raccontare devi raccontare il tuo lavoro quello che fai c'è la possibilità della pubblicità a pagamento pubblicità a pagamento che cosa ti permette di fare ti permette innanzitutto di raggiungere le persone giuste quindi i tuoi potenziali clienti i tuoi clienti con precisione veramente laser questo come possibile te l'ho spiegato prima attraverso veramente alla mole la quantità pazzesca di dati che i social network hanno che poi mettono a disposizione attraverso la piattaforma pubblicitaria di tutte le aziende che desiderano investire sui social network pubblicità a pagamento ti permette anche di vendere a distanza quindi facendo delle campagne ad hoc ti permettono di vendere a distanza o vendere con consegne a domicilio però sempre a farla a distanza senza neanche avere un e-commerce e in questo diciamo periodo storico io credo sempre di più anche in futuro sarà un qualcosa di importantissimo quindi è fondamentale riuscire a capire come funziona la pubblicità a pagamento su facebook proprio anche per riuscire ad aprirsi riuscire ad aprire per la tua azienda per la tua cantina dei nuovi canali di vendita puoi attirare invece anche visitatori in cantina quindi l'enoturismo ovviamente io ci abbiamo dedicato anche la prima puntata la prima lezione di questo ciclo formativo in collaborazione con Enartis ecco che l'enoturismo io credo che sia una risorsa preziosissima per il mercato del vino italiano e credo che qualsiasi produttore tutti i produttori italiani dovrebbero farlo dovrebbero investire su questo canale di vendita grazie alla pubblicità a pagamento avete tutti quanti voi produttori di vino la possibilità di migliorare le vostre aziende migliorare le vendite delle vostre aziende soprattutto pian piano facendo anche un po' tutti quanti insieme forza incrementare anche quello che è il mercato del vino perché se tutti quanti voi vi mettete a fare strategie di marketing ecco che molto spesso mi dicono ah ma se tutti quanti iniziamo a fare marketing poi alla fine si saltora tutto quanto e no cioè perché se siete bravi la vera sfida è quella proprio anche di amplificare il mercato aumentare il mercato se ad oggi il mercato del vino italiano vale circa 14 miliardi di euro ecco che possono incrementare questi 14 miliardi di euro quindi grazie al marketing tutti quanti voi a cascata potete beneficiare di questi di queste cose di queste cose positive di questo aumento del mercato generale del mondo del vino italiano questo deve essere diciamo l'obiettivo l'obiettivo comune se organizzi degli eventi se hai tanti produttori hanno anche altre divisioni aziendali fanno ospitalità hanno delle camere possono avere delle attività di agriturismo ci sono veramente le situazioni più diverse tanti di loro organizzano degli eventi hanno un'attività di ristorazione con cui fanno magari delle serate a tema e vi dicendo ecco che con la pubblicità a pagamento si possono riempire queste attività questi eventi si può fare anche retargeting con la pubblicità a pagamento che cos'è il retargeting te lo spiego veramente in maniera semplice ti sarà sicuramente capitato di cercare un volo piuttosto che una camera d'albergo o anche un paio di scarpe online su un e-commerce o anche una bottiglia di vino perché no però non hai concluso l'acquisto ecco che nei giorni successivi però o anche subito nelle ore successive hai aperto facebook instagram navighi all'interno dei siti sul web e ti trovi letteralmente bombardato di quel volo che hai cercato di quella bottiglia di vino che hai cercato di acquistare su una grande piattaforma oppure di quel paio di scarpe che hai cercato e quindi questa pubblicità fondamentalmente ti insegue però è una pubblicità se capite molto cioè molto specifica molto laser perché ti mostra esattamente quello per cui tu hai manifestato seppure non hai non sei andato avanti con l'acquisto hai manifestato però interesse quindi è una tipologia di pubblicità molto raffinata che puoi fare anche tu grazie alla pubblicità a pagamento puoi raggiungere grazie al retargeting magari le persone che hanno messo like che hanno interagito con le tue pagine facebook ed instagram le persone che hanno visitato il tuo sito internet per esempio ecco le puoi poi riraggiungere tutte quante con delle specifiche campagne a pagamento chi ha visitato il tuo sito internet sicuramente sarà molto più interessato a te rispetto ad una persona completamente nuova cioè che non ti conosce non ha mai sentito parlare di te della tua cantina non ha mai visto il tuo brand e neanche una tua etichetta neanche per sbaglio quindi fare retargeting è una strategia molto intelligente che si può assolutamente assecondare grazie e portare avanti grazie alla pubblicità a pagamento sui social e poi sicuramente cercare di incrementare i fan i follower le persone l'audience il pubblico che ti segue questo anche grazie ovviamente alla pubblicità a pagamento perché con investendo dei soldi sui social network è la possibilità veramente di raggiungere centinaia di migliaia di persone milioni di persone per fare queste campagne a pagamento non usare mai questi tasti quindi il tasto promuovi o metti in evidenza questi adesso attualmente sono di colore blu sia su facebook che su instagram non cliccare mai da qui questo è un modo sbagliato per fare pubblicità a pagamento è il modo giusto per bruciare soldi cioè buttarli letteralmente nel cestino e dunque ti consiglio di non cliccare mai su questi pulsanti perché è un modo semplice per facebook per venderti pubblicità per venderti campagne a pagamento ma dove non hai tutta una serie di strumentazioni di possibilità per fare queste campagne nel modo corretto quindi è proprio insomma una versione molto molto limitata di quella che invece è la vera piattaforma pubblicitaria piattaforma pubblicitaria che si crea da qui si crea dalla versione business di facebook fondamentalmente quindi se non ce l'hai ancora ti invito assolutamente a creare il business manager della tua azienda da questo link questo è il modo giusto per fare campagne pubblicitarie su facebook te lo faccio anche vedere questo è il business manager della mia azienda e qui hai tantissimi altri strumentazioni queste sono tutte alcune delle campagne passate qui c'è una campagna attiva ad esempio per un webinar sui siti internet dedicato ai produttori di vino che faremo a breve quindi lo sto promuovendo qui ti dice che è la campagna attiva queste sono campagne ad esempio passate ed ecco che qui dal gestione inserzione hai la possibilità di andarti a scegliere poi creare dei pubblici personalizzati c'è tutta l'area ovviamente anche dedicata alla fatturazione e via dicendo e quindi è veramente molto 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 più complessa insomma la situazione è molto più articolata ma perché? perché offre tante tante possibilità in più questo è il motivo e nel momento in cui uno va a creare una campagna può scegliere veramente tra un'infinità tra un'infinità di sostanzialmente di obiettivi e ci sono vari livelli per andare a creare una campagna quindi questo è il modo giusto di creare una campagna non da quei tastini blu che vi ho fatto che vi ho fatto vedere prima quindi questo è molto molto importante ed è una cosa tra l'altro che dicono in pochi dicono in pochi quindi ti consiglio vai su questo link crea il tuo business manager se non ce l'hai ancora crea richiama la tua pagina aziendale crea il tuo account pubblicitario se non l'hai mai creato e poi prosegui facendo le campagne nel modo nel modo corretto passando ad Instagram invece che cosa possiamo dire? Instagram per eccellenza è il social visuale cioè è nato praticamente all'inizio dove neanche si potevano pubblicare veramente agli albori neanche video era solo solo foto solo foto al 100% adesso ovviamente si possono caricare anche dei video si è evoluto però rimane sempre anche tanto un social visuale dove le immagini dove i video dove l'apparenza la fa anche proprio da padrona è il preferito dei millennials in questo preciso momento storico nel senso che rispetto a Facebook ha un'età media leggermente appunto inferiore rispetto a Facebook quindi ci si possono insomma ritagliare degli effetti di mercato su una categoria su delle generazioni un pochettino più giovani alta interazione con il pubblico per tutta una serie di caratteristiche che ha e che adesso approfondiremo un pochettino per le sue modalità per le modalità di contenuto che ti offre Instagram ad oggi Instagram ti permette veramente di dialogare con facilità e con veramente una profondità pazzesca con le persone che ti seguono qui ho preparato anche per Instagram la checklist per il profilo andiamo a vedere e controlla di avere tutte quante queste carte in regola profilo aziendale deve essere attivo anche qui ci sono ancora nel 2020 dei produttori di vino che utilizzano un profilo che non è quello aziendale se stai utilizzando ancora per la tua azienda un profilo tra virgolette personale fai subito la conversione è molto semplice ci sono le istruzioni e puoi tranquillamente portarlo ad un profilo aziendale l'username quindi il nome della tua cantina compatibilmente ovviamente con il tuo brand deve essere però semplice quindi evita troppi poi numeri a meno che non facciano parte del tuo nome troppi caratteri speciali cioè più semplice possibile è e meglio è perché? perché poi se devi comunicare alle persone di seguirti su Instagram come fai? cioè più è complicato il nome come gli indirizzi mail complicati è molto difficile sempre comunicarli a clienti fornitori e via dicendo quindi semplicità prima di tutto utilizza anche nel nome sia nel nome che nell'username delle parole chiave delle keyword che possono essere diverse devono essere ovviamente collegate al mondo del vino può essere cantina poggio masseria in base ovviamente magari anche alla regione geografica di provenienza possono essere anche parole non legate alla regione geografica di provenienza ma parole chiave che hanno proprio a che fare col vino quindi wine winery come anche cantina per dire o anche in italiano vini ok azienda azienda agricola ad esempio a parte che è molto più lungo ma magari te lo sconsiglio no perché perché uno non è che tendenzialmente sulla sulla ricerca di instagram va a cercare azienda agricola magari è più facile che cerchi insomma una parola chiave più generica che abbia a che fare col mondo del vino con wine wine ricerca una cantina no perché magari è appassionato di quel mondo o sta facendo una ricerca in tal senso però utilizzo queste parole chiave perché perché anche instagram al suo interno ha una sorta di motore di ricerca e dunque se tu hai questa parola chiave nel tuo nome lui se ne accorge quindi può ovviamente consigliarti ad altre persone affini anche qui similmente a quanto accadeva su facebook anche qui c'è la possibilità di inserire una biografia e deve essere presente innanzitutto perché tanti produttori di vino ancora oggi non ce l'hanno sono veramente poche righe anche perché c'è un limite di parole quella di instagram è ancora molto più corta rispetto a quella di facebook quindi veramente ci vuole un attimo a crearla e deve essere ottimizzata nel senso anche qui deve essere qualcosa di interessante per la persona e mettetevi nei panni di una persona che per la prima volta atterra sul vostro profilo quindi fondamentalmente magari non gliene interessa che dall'anno 1900x producete vino queste non sono informazioni rilevanti per una persona che ancora non vi conosce cercate di essere un pochettino più interessanti un po' più originali cercare di spiegare questa è una delle sfide più importanti sia per l'azienda che anche per le persone cercare di dire in poche parole incuriosire in poche parole e raccontare quello che uno fa chi è e che cosa fa in maniera interessante questo è l'obiettivo proprio di queste bio una sorta di una sorta di amo a cui le persone devono abbuccare perché poi possono decidere in base proprio magari anche a quella biografia o quelle poche parole di seguirvi o di non seguirvi di diventare vostri clienti o di non diventare vostri clienti le storie in evidenza catalogate in maniera ordinata quindi potete creare degli album con le storie adesso poi vedremo che cosa sono principali quelle che reputate più importanti selezionate la categoria corretta anche questo è importante per comunicare a Instagram che cosa fate voi no? e soprattutto anche alle persone che magari poi atterrano sul vostro profilo quindi la categoria corretta tendenzialmente se un produttore di vino è quella winery wine yard oppure cantina vigneto in italiano sono ovviamente la stessa cosa andate a centrarla cioè andate a selezionare a selezionare questa categoria anche qui poi c'è la possibilità di inserire il link a un sito web a una specifica pagina no? del tuo del tuo sito del tuo sito internet una delle strategie che si può adottare da inserire su nell'apposito spazio del link sul tuo profilo Instagram e magari non so vuoi investire sull'enoturismo sulle visite in cantina inserisci già direttamente la pagina del tuo sito che parla delle visite in cantina ad esempio col tuo action impostate c'è la possibilità no? di far diventare il tuo profilo Instagram un vero e proprio anche insomma strumento per far sì ai tuoi clienti di mettersi in contatto in maniera facile e veloce con te se vai ad indicare il tuo numero di telefono le mail il tuo indirizzo ecco che direttamente da Instagram le persone hanno la possibilità di chiamarti con un click di inviarti un'email con un click di impostare il navigatore con un click quindi in maniera facile semplice senza neanche uscire andare in altre piattaforme questo ovviamente semplifica notevolmente il loro processo di contatto nei tuoi confronti e poi anche qui collegamento con la pagina con la pagina Facebook perché? perché grazie al collegamento con la pagina Facebook quello che puoi fare è lavorare unicamente su Instagram magari e col cross-posting in automatico tutto ciò che pubblichi su Instagram viene in automatico pubblicato anche sulla tua pagina Facebook e questo ti consiglio di farlo perché ti permette di ottimizzare i tempi prendi due piccioni con una fava e curi mantieni attive mantieni in aggiornamento tutti quanti i tuoi profili sia di Facebook che di Instagram adesso andiamo a capire esattamente quali sono le tipologie di contenuti principali che ci offre Instagram il primo è quello dei post i post quali sono? sono quelli che vediamo all'interno del nostro profilo quelli che rimangono insomma fondamentalmente per sempre dove scorriamo all'interno di un profilo Instagram e possiamo andare proprio anche a ritroso sono dei contenuti che possono essere delle fotografie o dei video fino a un massimo di un minuto e che poi sono collegati a delle descrizioni via dicendo e questi post sono diciamo la modalità classica con cui Facebook Instagram perdonatemi è poi nato come pubblicare correttamente un po' su Instagram ecco quali sono gli step assolutamente da fare ecco qua allora selezioni innanzitutto la foto o il video desiderato meglio ovviamente se di alta qualità abbiamo ci ho detto prima che Instagram è un social visuale quindi anche la qualità proprio delle foto devono essere belle no? fondamentalmente devono catturare l'attenzione se hai un profilo poco curato con delle foto poco accattivanti ecco che avrai molto meno chance di ottenere dei risultati da Instagram migliora la foto con gli strumenti di modifica a disposizione quindi Instagram ti permette di utilizzare dei filtri di editare di modificare in maniera anche manuale le tue foto in maniera del tutto semplice senza dover conoscere per forza Photoshop e vi dicendo puoi migliorare i colori il contrasto la luminosità e ti permette di migliorare notevolmente le tue foto scrivi poi una descrizione sotto il tuo contenuto che sia fotografico o video sfruttando anche le emoticons poni in particolare cura alla descrizione quindi non è lemosinare non funzionano bene quei contenuti fotografici o video che hanno veramente una parola o frasi filosofiche cioè devi raccontare devi raccontare qualcosa di interessante per le persone che ti stanno seguendo non ha senso utilizzare i social non ha senso utilizzare Instagram per pubblicare una foto così 3 secondi mi sono liberato di questo peso no non funziona così così non si otterranno mai i risultati ti consiglio anche di sfruttare le emoticons ovviamente se sei più avvezzo o meno in base anche ovviamente al tono di voce della tua cantina come dicevo prima però perché a volte possono proprio semplificare e trasmettere meglio determinati concetti tagga poi fino a 20 profili che riceveranno una notifica quindi se tu pubblichi la tua foto e tagghi sopra puoi taggare sopra fino a 20 profili quindi ti consiglio di taggarne insomma il più possibile poi a volte anche se non lo fai non succede nulla di grave perché? perché questi profili che andrai a taggare riceveranno immediatamente una notifica del tuo nuovo contenuto e quindi praticamente al 100% lo noteranno lo andranno a vedere cosa che invece non è scontata perché come diciamo prima l'algoritmo di Facebook non mostra sempre tutti quanti i contenuti delle persone che seguiamo ma ci mostra solamente le persone che seguiamo con più frequenza con cui siamo più in contatto aggiungi poi anche un geotag quindi una posizione geografica alla tua foto questo perché? perché Instagram funziona anche proprio grazie a queste coordinate geografiche quindi puoi inserire anche l'informazione non so hai scattato una foto nel tuo vigneto indica il tuo comune la tua cantina e via dicendo ti trovi ad una fiera ecco hai scattato una foto l'hai pubblicata su Instagram tagga la particolare fiera a cui hai partecipato Verona se parliamo del Vini Italy Piacenza se è il mercato Fivi Dusseldorf se hai partecipato al Provine o qualsiasi altro anche tipologia di fiera minore in qualsiasi tipo di comune o sei a fare una consegna ti sei fatto una foto un selfie con un tuo cliente Oreca a cui magari hai fatto una consegna e ti trovi in un altro comune tagga quel comune lì ok? attiva la condivisione automatica su Facebook ecco che ce l'hai qui dopo che hai scritto la descrizione taggato i profili aggiunto la posizione poi con un semplice switch c'è un interruttore fondamentalmente possiamo chiamarlo così che quando diventa azzurrino abbinato alla tua pagina Facebook ti pubblica in automatico questo contenuto si chiama cross posting questa attività anche su Facebook e poi bene puoi procedere a pubblicare il tuo contenuto non è l'ultimo punto non è l'ultima attività che devi fare perché ti consiglio poi ovviamente di utilizzare anche gli hashtag puoi inserire fino a un massimo di 30 hashtag per foto per contenuto per video e ti consiglio di incollarli nel primo commento sotto la foto dopo che li avrai dopo che avrai pubblicato ok? quindi questo queste sono le mie indicazioni per pubblicare correttamente un post su Instagram questo è un esempio di foto editing su Instagram cioè questa è una foto già fatta molto bene con un device che è un iPhone X l'avevo fatta io a San Fruttuoso in Liguria un bellissimo panorama da una finestra su questo piccolo pezzo di paradiso ecco che grazie semplicemente ai filtri gratuiti in 3 secondi su Instagram guardate come può cambiare la foto a livello di colori di contrasto di luminosità è chiaro che quella sulla destra cattura molto di più l'attenzione rispetto che quella sulla sinistra quindi questo è quello che intendo quando parlo di migliorare le foto su Instagram perché con veramente poco sforzo si riescono a notevolmente ad ottimizzare le foto poi il secondo la seconda tipologia importante di contenuto su Instagram sono le storie le storie sono state introdotte in realtà non da tantissimo da un paio da una manciata di anni che cosa sono le storie sono dei contenuti interessanti perché sono innanzitutto questi pallini che una volta che tu accedi su Instagram ti ritrovi tutti quanti in orizzontale in alto al momento sono tondini c'è il nome delle persone che crea queste storie e puoi scorrere clicchi su un tondino e poi vai avanti all'infinito a vedere fin quando non si esauriscono tutti quanti i profili che segui che hanno prodotto una storia le storie perché hanno decretato praticamente il successo hanno fatto esplodere Instagram due anni fa perché perché le storie si fondano su un principio importantissimo psicologico della mente umana che ci riguarda tutti quanti le storie sono un contenuto a differenza dei post che hanno una durata limitata nel tempo 24 ore e poi scompaiono puff cioè nessuno le può più rivedere a meno che uno non le vada a comprendere all'interno e a catalogare all'interno delle storie in evidenza le può rivedere poi solamente più nell'archivio il proprietario dell'account ma tutti gli altri non possono rivederle quindi durano 24 ore e questo cosa fa? fa in modo provoca sostanzialmente un senso di urgenza in tutti quanti noi che diciamo ok devo per forza vedere questa storia di questa persona che seguo e via dicendo perché se non la vedo ora magari poi me la perdo per sempre e quindi proprio questo senso di urgenza ha fatto in modo innanzitutto di far avvicinare tantissime altre persone molti più utenti su Instagram l'applicazione esplosa e questo è il motivo per cui Instagram negli ultimi anni è diventato molto molto importante forse anche più di Facebook sotto determinati punti punti di vista e questo è il motivo per cui anche tu dovresti sfruttare appieno il potere delle storie anche perché poi hanno possibilità di interazione con il tuo pubblico pazzesca puoi fare sondaggi puoi creare veramente qualcosa di molto carino puoi raccontare puoi scattare foto puoi fare dei brevi video le storie su Instagram non sono veramente l'apoteosi di come bisognerebbe proprio sfruttare anche i social network in maniera proprio frequente nel tempo perché puoi creare fino a un massimo di 100 storie al giorno quindi questo è un canale molto molto importante quindi ti consiglio assolutamente di sfruttare e di imparare ad utilizzare le storie nel miglior modo possibile anche perché ogni volta che pubblici una nuova storia il tuo pallino praticamente arriva lì in alto come se fosse una notifichina a tutte le persone fondamentalmente che ti seguono che sono i tu follower quindi hai anche proprio la possibilità di avere un'importante visibilità ti dico di sfruttarle di cominciare a capire qual è il linguaggio delle storie di Instagram se non l'hai già fatto perché perché purtroppo solo un produttore su 10 c'è già una stima anche a rialzo è fatta anche in questo periodo preciso momento storico dove tanti produttori hanno anche più tempo rispetto al solito quindi tanti si sono attivati ultimamente ad utilizzarli solo 1 su 10 è una stima appunto a rialzo sfrutta le potenzialità delle storie su Instagram ce le sfrutta fondamentalmente poi sono ancora di meno quelli che effettivamente sono veramente bravissimi e le conoscono veramente bene sono entrati proprio nell'ottica delle storie di questo linguaggio di comunicazione questa statistica arriva proprio dal nostro profilo web marketing Italia perché noi su web marketing Italia abbiamo più di 1500 follower che sono praticamente al 99% tutti quanti produttori di vino e se io vado a vedere attualmente quanti hanno prodotto storie Instagram sono appunto circa 150 quindi ecco il 10% 1 su 10 dove però questo significa semplicemente pubblicare una storia però tante di queste 150 storie pubblicate non sono neanche efficaci non sono fatte bene senza considerare tutti gli altri cioè tutti gli altri 1350 che oggi non hanno sfruttato le storie quindi questo è molto importante le storie vanno poi sfruttate giornalmente tutti i giorni bisognerebbe essere all'interno proprio delle storie e comunicare veicolare dei messaggi attraverso le storie ma questo vi può portare veramente a dei risultati incredibili dal punto di vista delle vendite di nuovi clienti di relazioni con i clienti che avete che sono già vostri clienti da diverso tempo ok e poi qua arriviamo all'ultima insomma diavoleria abbastanza che ha creato Facebook ovvero il creator studio e una nuova piattaforma sempre da computer ok c'è anche poi l'applicazione per gestire fondamentalmente le tue pagine Facebook aziendali perché alcune funzionalità le ha tolte dall'altra parte le ha dedicate solamente qui all'interno del creator studio dal creator studio fondamentalmente puoi andare a creare un post vedete da qui con tutte quante le funzionalità ti devi andare a selezionare la pagina ovviamente noi e le nostre aziende amministrano diverse pagine anche di produttori di vino e selezionando ovviamente la tua azienda la tua pagina aziendale puoi poi andare a crearti il tuo post questo è un nuovo veicolo per creare il tuo post dove puoi anche andarteli a programmare perché tante persone ultimamente non riescono più a programmare i post normalmente come hanno sempre fatto dalla propria pagina Facebook ok e questo è proprio il modo perché Facebook sta spostando tutti quanti sostanzialmente sul creator studio quindi se hai intenzione di programmare i tuoi post perché perché programmare i post perché tu magari ti metti lì un determinato giorno hai un'oretta da dedicare ai social network e magari ti pubblichi già tutti i post da qui a una settimana senza dover stare ogni giorno magari a perderci tempo ok ecco qua quindi qua c'è veramente tutto c'è la possibilità di trasmettere in diretta caricare un video e via dicendo ci sono tante funzionalità anche in più che sono da esplorare ma soprattutto poi si può anche andare si può andare anche a gestire Instagram dalla piattaforma del creator studio e andare a creare un post o sul feed di Instagram oppure anche caricare un video su IGTV che è un'altra forma di contenuto su Instagram ecco dunque che qua possiamo creare contenuto prova qui si può aggiungere un luogo e qua si può poi caricare una foto e anche da qui il contenuto ecco che noi possiamo pubblicare vediamo bisognerebbe appunto aggiungere un contenuto una fotografia o un video all'interno di Instagram e poi qua la cosa bella è che si può sia pubblicare ma anche programmare un post fondamentalmente su Instagram quindi tanti mi hanno chiesto come si può programmare un post su Instagram ecco che attraverso il creator studio adesso c'è questa c'è questa possibilità ok quindi questo è molto è molto importante e da qua tra l'altro questa è la funzionalità di cross posting nel senso che tu lo stai pubblicando su Instagram sulla tua pagina aziendale in questo caso è webmarketing Italia è il nostro profilo Instagram no? aziendale e in automatico pubblicarlo anche proprio su su Facebook quindi tutte le funzionalità rispetto a pubblicare dallo smartphone perché Instagram chiaramente è nata come applicazione mobile quindi che si può sfruttare che si può utilizzare solo da smartphone ma attraverso il creator studio e anche la anche la sua versione insomma da desktop da computer si sta evolvendo ok quindi questo è molto e molto importante adesso allora quello che avevo da dirti fondamentalmente a livello insomma tecnico di ragionamento di strategia sui social network te l'ho detto però ho piacere di fare con te fare un pochettino un overview un insomma un viaggio all'interno di Instagram per andare insomma a vedere no? quali produttori come si comportano determinati produttori di vino che cosa fanno che tipo di comunicazione fanno e chi si muove no? in maniera utile ed efficace sui social network perché perché io ti posso dare tantissime informazioni strategie tecniche potremmo parlarne veramente delle ore approfondire con delle consulenze anche specifiche però poi in realtà io credo che prendere esempio fondamentalmente quindi non copiare ma prendere solamente esempio spunto da aziende profili che possono essere anche al di fuori del mondo del vino che lavorano bene sui social network su Instagram su Facebook ecco quello credo che sia la forma di apprendimento migliore quindi l'esempio è la forma migliore di apprendimento perché ti permette di capire di entrare proprio nell'ottica dei social network e poi appunto di prendere spunto per declinarlo sulla tua situazione aziendale specifica dunque qui allora qui ci troviamo su Instagram aziendale ok su Instagram scusatemi da desktop questo è la bacheca e ho piacere di farvi vedere alcuni profili allora prima di tutto ti faccio vedere il profilo Brico del Cucù di Irene puoi andare a vedere il profilo e vediamo qua andiamo proprio a riscontrare le cose di cui ti ho parlato prima anche nella checklist innanzitutto abbiamo Winery nell'username nel nome abbiamo la categoria giusta vedete Winery Wired se clicchiamo qui vedete che ci appaiono tutti quanti gli altri account Winery Wired nel mondo fondamentalmente perché questo è il sistema che Instagram utilizza per catalogare anche i profili e quindi per far vedere cioè se tu sei un produttore di vino ti mostrerà le persone che tendenzialmente sono interessate a quello che fai e poi una breve biografia piccoli produttori di dogliani nelle langhe vuoi degustare i nostri vini vieni a trovarmi in cantina e ecco qui il link proprio al sito proprio per la pagina della degustazione in cantina poi qua abbiamo in maniera ordinata le storie in evidenza vedete ad esempio qua c'è una cartella con tutte quante le storie sulle recensioni che magari ha ricevuto dai suoi clienti che aveva pubblicato nelle storie che poi ovviamente scompaiono dopo 24 ore e che poi riporta riporta qui catalogate nelle storie in evidenza oppure se ha qualche evento da pubblicizzare lo riporta qui o eventi passati che ha fatto informazioni per venirci a visitare oppure i contenuti che più belli che riguardano magari lavoro in campagna nelle vigne ok quindi ci si può veramente sbizzarrire e qua ci sono questi contenuti che sono molto belli perché se andiamo all'interno innanzitutto vediamo che il profilo è creato molto bene le foto sono assolutamente accettabili uno ha un'impressione cavolo questo è un bel profilo e non per forza appunto bisogna essere super professionali patinati cioè basta avere un semplice smartphone capire no come si possono scattare delle belle foto ci sono anche dei tutorial online se uno ha l'iPhone addirittura l'Apple stessa mette a disposizione dei tutorial come se fossero insomma delle lezioni per imparare a fotografare con l'iPhone la cosa importante quindi è scattare una buona una buona fotografia e poi riuscire a innanzitutto a mettere il geotag vedete qua a bricoli e poi a fare una bellissima descrizione vedete eccola qua cioè non si limita a dare semplicemente due parole a fare un po' sfrettoloso coltiva il rapporto con le persone che la seguono che ormai ad oggi sono oltre 4200 quindi come mai ci chiamiamo bricco del cucù ecco che va a spiegare tutto quanto quindi leggetevelo fatevi veramente studiate no i profili di produttori che lavorano bene altra cosa che vi consiglio vedete quindi andate proprio a a studiarvelo il profilo a vedere che linguaggio no utilizza non per forza deve essere poi il vostro però voi capite come fa lei cercate di declinarlo poi nella vostra situazione diciamo che fondamentalmente si riduce tutto a non essere frettolosi a non a non creare dei contenuti tanto per crearli perché perché questo è uno strumento di marketing che vi può portare i clienti e dovete dare tutta la cura a questi strumenti la stessa cura che date magari ai vostri vigneti ok quindi questo è un paragone un parallelismo che può aiutarvi a capire quindi studiatevi bene questo profilo un'altra indicazione che vi posso dare è che anche proprio le figure umane aiutano tantissimo sui social cioè tendenzialmente le foto che hanno delle persone umane potete essere voi voi con altri collaboratori o familiari no dell'azienda voi con dei clienti e via dicendo o altre persone vostri clienti del tutto però i contenuti che prevedono all'interno delle persone funzionano molto meglio rispetto a pubblicare solo non so paesaggi vigne cantina e via dicendo quindi questo è un profilo ricco ovviamente di persone di facce vedete quindi come proporzione come indicazione vi posso dare che insomma le figure umane devono rappresentare almeno circa il 30% insomma dei vostri contenuti almeno ok da lì a salire poi andiamo vi faccio vedere un altro profilo da cui prendere veramente tanto spunto che è Ferdewild Ferdewild in realtà non è un produttore di vino ma è un agriturismo che lavora veramente molto bene sono veramente in gambissima in pochissimo tempo hanno sono passati da 5-6 mila follower a oltre 32 mila vedete qua ed è un agriturismo sopra Bergamo fondamentalmente che lavora veramente molto bene che ha tanto seguito e che sta vendendo veramente tantissimo anche in questo momento perché stanno lavorando tantissimo anche con l'e-commerce guardate qua quanti ordini ogni giorno fanno partire e l'hanno creato da poco questi e-commerce e grazie ai social poi riescono a veicolare anche tutte queste vendite ma sono partiti da poco solo che ci mettono veramente tanto tanto impegno sui social network però è diventato un lavoro guardate quante storie fanno se andiamo a vederci le storie in un giorno in un giorno vi consiglio proprio di studiare questo ragazzo Nicolò Quarteroni è veramente molto in gamba però vi fa capire cioè quanto investono in termini di tempo no? sui sui social network sia su Instagram che su che su Facebook ok? però hanno dei risultati poi incredibili hanno dei risultati incredibili quindi andatevelo andatevi a vedere a studiare bene questo profilo di Ferdi Wilde sia su Instagram ma anche su Facebook per capire come lavorano che logiche hanno e ripeto anche qui non bisogna per forza copiare ma bisogna prendere spunto ok? un altro profilo di produttore invece che mi piace molto come comunica su Instagram è Stefano Cchetti che insomma da cosa si vince nella sua precedente vita era un ingegnere e poi è diventato aperto da poco da neanche un anno la sua azienda agricola si è messo a produrre vino ecco che lui ha un approccio meno tra virgolette frequente sui social network ma cura tantissimo i contenuti vedete qua fa proprio una rassegna giorno per giorno fondamentalmente pubblica circa una volta a settimana dove fa proprio un racconto bello specifico di determinate tematiche che riguardano la sua azienda e le introduce con un format tutto suo che si è inventato quindi andando giorno per giorno questo è il giorno 277 qui stiamo andando a ritroso arriviamo al giorno 270 vedete circa un contenuto a settimana giorno 261 però vedete no? innanzitutto la cura delle foto la cura poi dei dettagli delle descrizioni all'interno del di un contenuto ok? quel giorno del ritorno in vigna quel giorno del vino in botte ok? quindi prendete spunto da chi sta lavorando bene quel giorno dell'ultima fioritura ok? bisogna affinare quelle che sono le le nostre no? capacità di storytelling di raccontare storie le storie sono fondamentali nella nostra vita sia personale che professionale e quindi attraverso i social network dobbiamo dare amplificare le nostre storie ok? fondamentalmente tante delle cose che riguardano le nostre vite si riducono a delle storie ad un racconto ne parlavo in un'interessantissima diretta anche Alessandro Baricco noto scrittore torinese assieme a Marco Montemagno non so se lo conoscete sulla sua pagina facebook potete andare a trovare dove ha messo a fuoco proprio questo concetto cioè il concetto e l'importanza delle storie ok? che secondo me è molto è molto importante un altro ragazzo che lavora molto bene anche sui social è Francesco di Toyo Winery vedete anche qui riscontrate parole chiave nel username trovate una descrizione importante winery quindi cantine vini dalle langhe Piemonte Italy quindi ti dà un'identificazione non puoi venire da Toyo Winery perché ovviamente si è aggiornato al periodo storico no? perché poi la descrizione si può anche cambiare aggiornare il vino te lo portiamo a casa noi quindi qua ti dà già questa possibilità quindi uno che non ha mai conosciuto Toyo Winery ma a terra qui sa già che cosa può fare e poi ecco che c'è il link al suo sito ci sono anche qui no? delle storie in evidenza magari determinate fiere che ha partecipato con losari e via dicendo persone che hanno visitato la cantina e questo è il profilo ok? e anche lui è molto attivo sia sulla parte dei contenuti dei post ma anche appunto anche qui sulle storie vedete? ecco qua quindi questo è quello che è possibile fare con i social network andiamo a vedere ancora un altro esempio vino olivetta quindi vini del monferrato 11 ettari di vigna crinolino barbera monferrato una famiglia di enologi no? questo è una caratteristica no? molto importante perché sono entrambi enologi sia Elisabetta che Marco bere in breakfast tra le colline del monferrato ecco qui vedete qua anche proprio la pulizia no? vigneto vini recensioni cantina eventi no? incasellati con il loro stile e hanno e hanno sostanzialmente tutto quanto tutto quanto ordinato qua sul profilo pubblicano post c'è anche l'IGTV no? con cui hanno cominciato da poco e poi ci sono anche le storie dove Elisabetta si sta molto impegnando no? a raccontare qua sta raccontando delle gemme nuove però se i giorni non dovesse piovere bisognerà bagnarle via dicendo quindi c'è dà delle informazioni che comunque possono essere interessanti per le persone che possono imbattersi nel suo profilo le persone che la seguono ok? vedete ci mette anche proprio la faccia metterci la faccia anche sui social può essere una strategia molto vincente può aiutare tantissimo ad accelerare anche i risultati che si possono raggiungere un altro esempio che vi posso fare di Marco Ludovico qui ci spostiamo in Puglia produttore che ha seguito i nostri consigli ad esempio in maniera specifica i consigli di Tania della mia collega infatti tant'è vero che l'altro giorno mi ha mandato un messaggio per ringraziarci che questo post ha avuto tanto successo sia su Instagram che su Facebook no? è un post che ha pubblicato circa una settimana fa e vedete perché per intanto ci ha messo la faccia è stata una foto migliore magari del solito e soprattutto ha raccontato qualcosa è partito qua con un post con un titolo all'inizio per poi proseguire quindi dal terreno non bisogna solo attingere al terreno bisogna anche dare quindi già subito qui un titolo che cattura l'attenzione delle persone che vivono tutti i giorni che navigano sui social network è importante catturare l'attenzione nella vastissima quantità di contenuti che sono disponibili e che gli internauti gli utenti dei social network possono consumare e quindi questo questo singolo post mi aveva mandato proprio un messaggio che gli ha portato tanti contatti tante persone che ne hanno chiesto informazioni che ne hanno ordinato vino ok? quindi questa è proprio la potenzialità dei social se fatti bene ok? se utilizzati bene ecco che può portare a dei risultati incredibili ok? anche qua troviamo tutte quante le leggi che ovviamente sono a posto per quanto riguarda l'impostazione base i requisiti minimi del profilo eccoci qua dopo questa carrellata abbiamo finito anche anche questa lezione e quindi siamo arrivati al termine di questo percorso formativo probabilmente avrai già visto anche le prime lezioni se invece ti sei sintonizzato con questa quarta lezione che riguarda i social network nel vino facebook e instagram diciamo che non c'è un ordine si può cominciare da quella che che vuoi però se ti sei connesso da questa e ti sei perso le altre sappi che la prima lezione riguardava la vendita diretta al privato e l'enoturismo la seconda l'e-commerce e la vendita a distanza di vino la terza il web packaging strategico e poi questo ovviamente social network per il mondo del vino se te le sei perse le trovi tutte quante sul canale youtube di Enartis e quindi sono diverse ore di formazione specifica per il prodotto di vino per gli enologi per chiunque abbia voglia di dedicare qualche ora alla sua formazione per il marketing nel mondo del vino io devo dire che innanzitutto ringrazio tutti quanti voi tutti i produttori di vino tutte le persone che in qualche modo hanno apprezzato perché ci sono arrivate tantissimi messaggi di ringraziamento mi sono arrivati tantissimi complimenti per queste elezioni spero che anche quest'ultima sia stata all'altezza perché appunto fa veramente piacere e siete stati veramente in tanti a farcelo farcelo sapere quindi di questo non posso che essere contento anche tutta quanta Enartis è contenta perché poi è partito tutto quanto da loro volevano dare un supporto alle persone ai produttori di vino gli enologi italiani che ovviamente stanno attraversando stiamo tutti quanti attraversando questo momento particolare tante attività si sono ridotte il mondo sta cambiando Enartis ha proprio voluto creare questo percorso formativo per dare qualcosa di più per non sprecare fondamentalmente questo tempo ma fare formazione perché è importantissimo nel mondo di oggi rimanere aggiornati un mondo che cambia la velocità della luce in realtà è già da diversi anni che sta cambiando la velocità della luce dopo questa situazione cambierà di nuovo in maniera anche molto più importante rispetto a prima quindi volente o nolente dobbiamo tutti quanti noi mi ci metto di mezzo anch'io fare pace con noi stessi cercare di mantenerci aggiornati anche su tutte queste tematiche che riguardano il marketing che riguardano la parte commerciale della vostra azienda per cercare di individuare quelle che sono le opportunità cercare di non sprecare tempo di ottenere il massimo dei risultati il massimo del risultato con il minimo sforzo e soprattutto imparare ad utilizzare magari delle piattaforme degli strumenti conoscere delle nuove strategie che magari ovviamente se uno non si occupa di marketing tutto il giorno non conosce ok quindi questo è quello che facciamo anche poi in web marketing d'Italia proprio trasferire conoscenza ai produttori di vino quindi ringrazio Enartis ancora una volta veramente tanto per l'opportunità ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo ciclo formativo e niente le lezioni sono qui potete vederle quante volte volete rimangono su su youtube e io vi saluto Roberto Cooper Bortolussi se avete qualsiasi tipo di domanda fatemela i miei contatti ve li ho messi all'inizio potete scrivermi anche in privato potete lasciare un commento qua sotto youtube sarò contento di leggerli e anche di risponderli ciao a tutti e buona giornata grazie a tutti